Ieri presso la Biblioteca Comunale di Locri in Corpora di Palazzo Niedu del Rio si è parlato di due grandi figure, stiamo parlando di Umberto Zenotti Bianco e Paolo Orsi, a promuovere l'incontro all'Archeoclub di Locri in collaborazione con il Comune ed il Circo di Rettura dell'ARAS di Roccella Ionica. Il tema è accattivante per studiosi appassionati, Zenotti Bianco, Paolo Orsi e l'Animi, la scoperta della Magna Grecia. Ha ricevuto i saluti dell'amministrazione comunale, dopo il programma ha previsto l'intervento dell'assessore Domenica Pumbaga del presidente dell'Archeoclub Nicola Monteleone. Un evento molto importante che noi abbiamo già anticipato già a giugno con le giornate europee dell'archeologia, proprio al museo, al parco archeologico, grazie alla dottoressa Elena Trunfio dove abbiamo riportato un epigrafe e ovviamente ricordato Paolo Orsi. Un appuntamento importante che continua anche a Rovereto. Paolo Orsi infatti ci darà la possibilità con le città di Rovereto e Locri, proprio pochi minuti fa ho ricevuto la telefonata del dottor Battisti, di Maurizio Battisti, del museo di Rovereto dove a metà novembre sarà la città di Locri ospite. Andremo insieme alla direttrice del museo e coinvolgeremo assolutamente l'archeoclub per continuare a parlare di Paolo Orsi e perché no, le due città andranno a gemellarsi. Abbiamo inteso come archeoclub, sede di Locri in collaborazione con il comune di Locri e il circolo di lettura dell'ara sede di Roccella Ionica, di organizzare questo incontro. Questo incontro che andrà comunque a raccontare, a parlare della vita di Umberto Zanotti Bianco e di Paolo Orsi. Due figure importantissime che hanno contribuito con la loro ricerca e i loro studi, hanno contribuito a proporre, a presentare una ricognizione storica, dettagliata, importante, frutto di una ricerca certosina per il nostro territorio e per la nostra comunque storia e tradizione. Successivamente la relazione dell'archeologa Maria Teresa Iannelli. Nei primi del Novecento l'Italia, soprattutto intorno alla prima guerra mondiale e anche dopo, nel periodo fascista, era un'Italia di analfabeti, un'Italia che soffriva, un'Italia soprattutto nel meridione che aveva problemi endemici, la denutrizione, la mancanza di lavoro. Per cui a un certo punto Zanotti Bianco insieme con un gruppo di volontari vengono in Calabria per il terremoto, dopo il terremoto del 1908 che distrugge Reggio e Messina. E da lì nasce questo grande interesse per la Calabria. Ripeto, quello che fece Zanotti Bianco, Paolo Orsi naturalmente, e l'Associazione Italiana per gli Interessi del Mezzogiorno, che nel suo, in questa denominazione ha tutto quello che può fare un'associazione di volontari per il mezzogiorno, riescono ad aprire scuole, a fare cooperative di pescatori, cooperative di lavoro femminile e poi con la società Magna Grecia, con una, in fondo non la società Magna Grecia che si occupa dei monumenti della storia dell'archeologia del territorio. Praticamente nasce in questo periodo, importa la conoscenza, il valore della conoscenza della storia di un territorio. Tutti gli interventi dell'incontro sono stati intervallati da letture curate da Luisa Coluccio.